Continuano le indagini sui tre rumeni che hanno ucciso brutalmente Iconugi Ambroso, l'ex giardiniere della villa, il romeno Marius Vasile Axnei, e accusato di aver compiuto un altro colpo la mattina del 6 aprile scorso, nella settimana precedente il massacro della gaiola, a inchiodare l'immigrato oltre alle impronte lasciate sui mobili dell'abitazione di una villa a Soccavo, anche un identikit prodotto dalla polizia scientifica della questura di Napoli. Il ritratto elaborato con le indicazioni della vittima corrisponde in maniera sorprendente, secondo la polizia, al volto di Axnei. La mattina del 6 aprile, in una villa della zona di Soccavo, a Napoli, due uomini a volto scoperto scavalcano il muro di cinta del giardino, entrano nell'abitazione attraverso una finestra al primo piano, senza accorgersi della presenza sul balcone al piano terra di un'amica di famiglia, ospite dell'abitazione. La donna, allarmata dai rumori sospetti, sale al piano superiore. Dopo aver visto i due rapinatori, tenta di scappare cadendo per le scale. I due si scagliano con violenza nei suoi confronti, la immobilizzano e, dopo averla incappucciata, la colpiscono a pugni e calci al volto e in altre parti del corpo. La donna, trasportata all'ospedale Cardarelli di Napoli, viene giudicata guaribile in 18 giorni e trattenuta nel nostro comio perché l'attacca evidenzia la frattura dello zigomo sinistro. Il successivo sopralluogo compiuto dalla scientifica consente di rilevare due impronte che non risultano appartenene ad alcun pregiudicato presente sulla banca dati. Successivamente la vittima si reca nella sede dell'unità di analisi dei crimini violenti, dove viene elaborato un identikit di uno dei rapinatori. Le comparazioni fatte dopo l'omicidio della gaiola consentono di appurare che le impronte lasciate sui mobili dell'abitazione appartengono proprio ad Axnei.